Poco più di due ore le dichiarazioni dei partiti, poi alle 22.30 all'inizio del voto si faranno le ore piccole alla Camera per la fiducia sulla riforma della giustizia partita che il Governo intende chiudere entro la giornata di domani al termine del voto finale sul provvedimento, ma occhi puntati ancora sui 5 Stelle dopo che ieri sulle pregiudiziali di costituzionalità sulla riforma in 40 non si sono fatti trovare per il voto. Dietro le assenze e i manuori di un Movimento che fatica a digerire una riforma che di fatto cancella quella precedente del Governo e firmata da Bonafede. Il Movimento 5 Stelle ha ascoltato l'allarme di molti esperti e corretto la riforma della giustizia. Riteniamo che ci debba essere un principio che dice quando un processo inizia e quando un processo finisce. Gli italiani vogliono processi giusti e veloci. Con questa riforma la giustizia in Italia fa un importante passo in avanti. Altro tema di frizione tra i partiti, il possibile acquisto della banca Montepaschi di Siena da parte di Unicredit. Cessione gestita dal Ministero del Tesoro che dopo il salvataggio deve uscire dalla banca entro la fine dell'anno. Tra le condizioni poste da Unicredit, niente crediti deteriorati e rischi legali a rischio comunque circa 6.000 posti di lavoro. Vicendo poi dai mille risvolti politici nel Collegio di Siena, infatti, è candidato il segretario Dem Letta per le elezioni suppletive. Contrapposizione politica destinata ad aumentare attenzione per il fatto che domani scatta il semestre bianco, ossia il periodo in cui il Capo dello Stato, in vista dell'elezione del suo successore, non può più sciogliere il Parlamento.